Pronto a tornare a blindare la difesa del Pescara in grosso? Sì, sono stato fuori un turno per squalifica, sono pronto per tornare. Che partita ti aspetti a Lucca? Come tutte le partite a quella fine, partite dure, con squadre che giocano poco, si mettono lì dietro. Le solite cose, insomma, dobbiamo cercare di fare un po' meglio. Nel senso, in queste due partite potevamo portare qualche punticino in più a casa e dobbiamo lavorare per quello. Senza nulla togliere a Ianes che sta facendo benissimo e a Gerardi, la sensazione è che tu con Drudi probabilmente sei una delle migliori coppie per la categoria un lusso? Senza dubbio stanno facendo tutti un buon lavoro, questa è una squadra che a prescindere da chi gioca fanno tutti un buon lavoro e danno il loro contributo. Ed è quello che cerchiamo di fare fondamentalmente sia io che Mirko, se poi ci riusciamo un po' meglio non lo so. Però comunque penso che questa sia una squadra competitiva a prescindere da chi gioca. Io credo che le mia idea e le gerarchie siano fatte in difesa con te e con Drudi, però al di là di questo ti chiedo una cosa. Il girone è andata tua o non è stato tanto facile? Da un mese e mezzo a questa parte, anche due, si è diventato insostituibile. Cosa è cambiato? Non credo che sia insostituibile, anche perché alla fine stiamo vedendo che le presenze le stiamo facendo tutti. Come ho detto già l'altra volta, siamo una squadra che non ha mai giocato insieme, con un allenatore nuovo, il 90% dei ragazzi siamo tutti nuovi. Quindi secondo me era normale far fatica all'inizio e integrarci, come per me e come per tanti altri. Però comunque si sta vedendo che man mano che passa il tempo ognuno di noi riesce a dare sempre qualcosa di più. Ti faccio una provocazione Gianmarco, se ti dovessi dire che le cose sono migliorate tanto da quando ci sono i tre centrocampisti contemporaneamente? Beh, è inutile nascondersi dietro un dito. Le cose sono migliorate, in merito anche dei ragazzi che sono arrivati a gennaio che ci stanno dando una grande mano. Nulla toglie a quelli che c'erano prima, però comunque qualcosina sì, è cambiata.